sui music fan ci occupiamo anche di cinema e diamo il benvenuto al produttore andrei andrei erbolino buongiorno ciao ciao simone grazie mille di avermi con te veramente grazie è un piacere anche perché comunque dobbiamo parlare di un progetto estremamente interessante tell it like a human sette cortometraggi in una storia che parla di donne e poi parleremo anche del del motivo legato ad una questione musicale questo progetto sette cortometraggi che tra l'altro appunto sono ammiettati in cinque paesi differenti come è nata l'idea assolutamente e allora questa idea è nata da un'associazione no profit che si chiama we do it together che in sostanza la missione di questa associazione no profit è appunto mandare messaggi di uguaglianza dell'uomo e della donna e quindi mi venne approcciato nel 2000 mi sembra 15 o 16 durante il festival di canne dalla fondatrice di questa organizzazione dicendo andrea c'ho questo c'ho questo film che ti vorrei appunto presentare tutti mi dicono che ti devo incontrare perché sei l'unico che forse ci può far fare una cosa di di questo tipo io in quel momento ho detto subito di sì però poi in quel momento eravamo impegnati nell'acquisizione di una grande library di film eravamo impegnati in altre sette otto e quindi il film si è perso un attimo abbiamo solo riniziato a lavorare per questo film un anno dopo e questo è un film estremamente difficile perché appunto come detto prima è un film formato da sette segmenti che non è la prima volta che si fa un film formato da segmenti ma in genere sono segmenti collegati nella storia no cioè hanno un filo conduttore di una storia in questo caso sono sette segmenti il cui unico filo conduttore è il concetto che ogni segmento è raccontato da donne su argomenti di donne ma per tutti no e la e la e cioè e quindi diciamo questo non è un film dove per il quale abbiamo avuto supporto di grandi studi o supporto di piattaforme proprio perché un film era un è un film di quelli difficili da collocare no cioè in genere tu fai un dramma fai fai una comedy fai un film cioè fai questo è un film che non esiste nelle piattaforme o non esiste nelle televisioni uno slot per questa tipologia di film e quindi è stato un film molto diciamo sofferto perché produrre questo film significa veramente avere molto coraggio perché comunque non potendolo collocare in uno slot ben preciso non sai quale sarà il mercato del film e la e la e che sai un produttore la cosa che deve fare e deve individuare una storia che funziona ma deve anche saperla collocare un segmento ben preciso per trovare il suo pubblico che invece qui la mancava questo c'è questo pezzo cioè dove collochi il film in quale tipologia di tipologia di genere e devo dire che però abbiamo fatto benissimo perché il film sta andando bene verrà e viene distribuito in tutto il mondo e la e la e un film che in qualche modo è una sorta di united nation del film cioè di un film perché c'è un segmento giapponese dove c'è la regista donna numero uno giapponese l'attrice numero uno giapponese un segmento indiano con l'attrice numero uno indiana nella registra numero indiana c'è un segmento italiano con appunto la nostra maria sole toniazzi come regista e margherita bui come attrice protagonista c'è ci sono due segmenti americani uno con la regista katyn hardwick l'unica regista donna al mondo che ha fatto più di mezzo miliardo di box office al mondo con un film diretto da lei e la e la con cara della vigni come come protagonista c'è un segmento argentino con una regista argentina di grande successo luisa puenzo con eva longoria e quindi in sintesi ecco abbiamo abbiamo cercato veramente scusa se mi sono dimenticato altri no ma abbiamo diciamo cercato di unire veramente il meglio dei talenti femminili che che abbiamo individuato ce ne sono tantissimi altri ma purtroppo non potremmo metterli tutti ma abbiamo cercato di mettere insieme il meglio e fare un'opera appunto che sia un'opera commercialmente distribuibile ma anche un'opera che dia un messaggio appunto importante siamo felicissimi due volte di più perché il film a marzo 3 verrà proiettato presso un united nation appunto perso la strada dell'assemblea generale del united nation e questo almeno per quello che io sappia la prima volta che succede nella storia e la e la e la e cioè almeno io non conosco un altro film che è stato presentato lì in precedenza e la e quindi questo ci fa tantissimo onore perché comunque una grande diciamo riconoscenza culturale del film e il film è stato anche candidato agli oscar come miglior song cioè best song e la e che è una canzone che si chiama che si chiama applause che è la diciamo è la canzone scritta in in originale da diane warren per questo film interpretata da sophia carson e e queste sono altre eccellenze della diciamo dell'entertainment femminile perché diane warren è stata candidata per 13 volte agli oscar questa è la quattordicesima volta e la e la quest'anno anche è stato dato uno di quei di quegli oscar che sono concessi a pochi quindi una grande riconoscenza per lei e la il brano interpretato da sofia carson che una che una nuova star upcoming quest'anno ha avuto un grande successo su netflix ha avuto il film più visto su netflix per il quale lei ha fatto sia la produttrice sia l'attrice protagonista sia tutte le musiche e la e la e quindi sono felice perché poi tutta questa cosa che ti ho raccontato alla fine simone questo è un film italiano cioè questo è un film che ha unito il mondo ma è un film di nazionalità italiana prodotto dall'italia dalla nostra azienda italiana che viaggia il mondo e porta l'italia agli oscar e quindi ecco è una di quelle operazioni che a noi come paese ci deve fare fieri perché in generale un'operazione di questo tipo uno pensa che nasce dall'america pensa che c'è chi che nasce da qualche altra parte no e la e quindi ecco sono felice che l'italia diciamo il promotore di un messaggio importante di una produzione veramente unica assolutamente tra l'altro estremamente positivo concentratoci sull'aspetto musicale proprio la proprio la nomination all'oscar dicevi appunto tu da ian warren quattordicesima nomination tra l'altro la volta precedente con la canzone di cantata da laura pausini tra l'altro ed è un pezzo estremamente particolare perché unisce comunque diverse come dire un pezzo musicalmente che va da una parte appunto nel testo invece diciamo che è ancora più intenso il testo e l'interpretazione rendono davvero merito al tipo di progetto come è nata l'idea di coinvolgere diane warner e come è nata l'idea anche di coinvolgere poi sofia carson allora e sofia carson e diane allora prima è nata l'idea di coinvolgere diane perché credevamo che lei ha una sensibilità artistica tale che poteva scrivere un brano così importante perché il brown applause è un inno alla donna è un applauso alla donna è un applauso alla femminilità e quindi avevamo bisogno di una persona estremamente sensibile lei ha una grandissima sensibilità infatti le parole che ha scritto sono bellissime e l'idea di sofia è nata come conseguenza nel senso che abbiamo messo giù una lista di possibili cantanti che potevano interpretare questo brano e siamo andati direttamente su sofia che ha accettato immediatamente di far parte di questa di questa opera e devo dire con estremo entusiasmo perché sofia veramente si è impegnata tantissimo cioè in questa campagna oscar che abbiamo fatto è stata sempre presente e questo non è una cosa da dare per scontato perché ti garantisco che gli artisti soprattutto quelli come lei upcoming e di successo sono molto impegnati e generalmente sono disponibili sempre invece lei è stata sempre disponibile a sostenere questa campagna oscar perché fare una campagna oscar soprattutto quando hai contro come noi rihanna e lady gaga hai dall'altra parte dei grandi studi che investono tantissimi soldi hai dei grandissimi artisti e quindi diciamo hai la competizione altissima cioè essere già candidati con un film indipendente così è una cosa grandiosa grandiosa e quindi ecco ci vuole un grande impegno di squadra cioè non è solo il lavoro del produttore cioè è un lavoro di team e gli artisti devono essere come loro hanno fatto estremamente disponibili e la e delle canzoni ce ne sono due versioni questa cosa che non ho detto ancora nessuno ci sono due versioni della canzone quella che è nel film è una è diciamo una versione più romantica e la e la e poi che non l'ha ancora ascoltata nessuno e quindi ecco questa è una è una e in realtà la canzone che avevamo c'è che avevamo prodotto per prima era era l'altra e poi in corsa abbiamo deciso di cambiarla e quindi questa è una cosa interessantissima perché cioè sono belle entrambi le versioni però questa qui è più da Oscar cioè è una è una è una versione che secondo me un 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 orecchio diciamo sofisticato appesta di più e quindi e quindi abbiamo abbiamo fatto bene secondo me a cambiare la versione in corsa sì ma senti ma come è cambiato nel tempo l'approccio alla colonna sonora l'approccio alla scelta di canzoni per per inserire appunto in un film e poi tra l'altro in un film come questo è ancora più particolare la scelta di una canzone è ancora più particolare la scelta della canzone giusta certo ma in realtà è stato più semplice di quello che potevi pensare perché visto che il messaggio che accomuna cioè noi ci siamo esulati dalle singole storie no perché le singole storie ovviamente erano storie libere cioè dove abbiamo dato libertà artistica alle varie registi che ci hanno proposto le loro storie no per fare i vari segmenti ma la cosa che tutte le registi dovevano rispettare era storia di donne raccontate da donne per tutti no e quindi che potevano essere storie vere o storie praticamente di invenzione e quindi il brano in realtà è stato molto più facile di quello che uno può pensare perché intanto dovevamo rispettare questo una canzone quindi scritta da una donna che parla di donne per tutti no e quindi in realtà la scelta e diciamo la direzione artistica della canzone è stata abbastanza semplice perché il messaggio era la cosa più importante poi la scelta difficile era ma in quale segmento la mettiamo e la e la e la e la e la oltre a metterla ovviamente nei titoli e poi ci siamo resi conto che 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 alla fine la scrittura di questo brano era perfetta per il segmento indiano infatti nel film se guardi il segmento indiano di giacolini fernandez è lì che poi stato è stato inserito il brano per esteso durante il film e quindi quella parte del film oltre che nei titoli ovviamente molto bene sandi andrea io non posso che ringraziarti e faccio un grandissimo bocca al lupo veramente grandissimo grazie per la cerimonia degli occhi anche per chiaramente la presentazione la presentazione in una location così meravigliosa e particolare che è la generale dell'onu e grazie mille ce la mettiamo tutta a vincere per portare l'ore dell'italia in alto e grazie e delle donne ovviamente e grazie grazie